eccoci qua, tornati, buca numero 6 qua abbiamo un'ottima possibilità di fare un albatross perché comunque c'è un vento decente quindi se riusciamo a gestire bene il driver e a metterci nella parte sicura del fairway subito dopo il bunker come sta provando a fare il nostro avversario abbiamo un'ottima possibilità di andare con un sniper e tentare un albatross quindi su questo primo tiro io aggiungerei circa un 5-10% di dipendenza adesso vediamo anche in base al vento credo cambi ben poco a 7 di vento tra 5 e 10 in questo caso il nostro avversario è un po' troppo a sinistra vediamo se torna giù, è tornata giù fortunatamente quindi vogliamo essere sicuri, diamo un 10% in più quindi in discesa non giochiamo di berserker sicuramente ma andiamo di king 7-1 abbiamo quindi 5-6 ci mettiamo con full side a destra 3 di top ci mettiamo più o meno qui a 10 yard abbiamo detto 5-6 ci mettiamo un po' di sinistra per sicurezza e si dà un pizzico di curvatura in questo caso il great a destra non dovrebbe farci del male perché ci siamo tenuti quel poco di margine in più quindi quando settate il colpo cercate di tenervi almeno poco più di un cerchio a sinistra del rough in modo che in questo caso riuscite comunque a passare dall'altra parte tranquillamente con un great a destra e probabilmente anche con un great a sinistra non dovrebbe darvi comunque fastidio il secondo colpo è un 5% in salita quindi meno 5% per chi usa caddy notebook e qualsiasi tipo di software di calcolo la guida palla del nostro avversario non è totalmente sbagliata anche se ho paura sia un pelo lunga abbiamo fatto uno spostamento un po' strano ora uso anche un po' di curvatura a sinistra great a sinistra questa palla andrà pesantemente a sinistra pesantemente no ma con perfect e più o meno c'era quindi siamo più o meno quasi massima distanza di sniper 7.9 abbiamo detto 7.7 di spostamento possiamo dare 4.5 di back e lasciare la guida palla esattamente qui dove la sto lasciando io sempre che sia giusto 5.7.7 e siamo dritti in buca ragazzi perfetto quindi l'aggiustamento è perfettamente in questo modo qua 5% di aggiustamento in salita per il secondo colpo e per essere sicuri un 10% nel driver grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti